Ciao e benvenuti nel nuovo video di oggi dedicato alle banche europee. Oggi vi parleremo dell'ufficialità dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di USB Bank. Nel mezzo di un'industria finanziaria in rapida evoluzione, l'acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS rappresenta un momento fondamentale, non solo per il settore bancario svizzero, ma anche per il panorama bancario globale. Dettagli dell'accordo. UBS ha acquisito Credit Suisse per 3,25 miliardi di dollari, pur essendo Credit Suisse valutato il doppio prima dell'acquisto. Termini della fusione. Per ogni 22,48 azioni di Credit Suisse, gli azionisti riceveranno un'azione UBS. Implicazioni per i clienti. Non vi saranno cambiamenti immediati nei servizi offerti da Credit Suisse. I clienti potranno continuare a utilizzare i loro conti e prodotti come prima. Il futuro del settore bancario svizzero. L'acquisizione potrebbe consolidare ulteriormente il settore bancario svizzero, posizionando il paese come un potente attore nel settore bancario globale. Reazioni del mercato. La notizia ha avuto un impatto significativo sui mercati finanziari, con UBS che registra profitti record informazioni sul futuro di Credit Suisse. Sebbene il marchio Credit Suisse possa scomparire entro il 2025, UBS assicura che i servizi attuali continueranno per i clienti di Credit Suisse. Risultati finanziari. Dopo l'acquisizione, UBS ha registrato un impressionante profitto netto, mentre Credit Suisse ha registrato una perdita significativa. Feedback del CEO. Ralph Amers, CEO di UBS Gruppa G, ha evidenziato l'importanza della soddisfazione del cliente e la fluidità dell'intero processo di acquisizione. Risultati del secondo trimestre 2023. UBS ha annunciato un profitto netto di 29 miliardi di USD per il 2T23, che comprende l'acquisizione di Credit Suisse. In conclusione, l'acquisizione è un indicatore delle tendenze correnti nel settore bancario, dove la digitalizzazione e la globalizzazione stanno spingendo le banche a ripensare le loro strategie. Con UBS e Credit Suisse ora sotto lo stesso tetto, sarà interessante osservare l'evoluzione del settore bancario nei prossimi anni. Grazie per aver seguito il nostro video. Se avete trovato queste informazioni utili, lasciate un like, iscrivetevi al canale e